E' tutto pronto nel quartiere fieristico di San Nicola per l'undicesima mostra regionale delle razze Charolais e Limousines che ogni anno richiama visitatori da tutta l'isola e dal continente che si svolgerà nel fine settimana dal 20 al 21 aprile a Ozzieri grazie all'impegno di Anacli, Ars e Comune di Ozzieri. Saranno circa 160 gli animali presenti in stalla, 90 quelli ammessi al concorso Limousines appartenenti a 17 allevamenti, 27 quelli per la razza Charolais appartenenti a 6 aziende. Una due giorni che si conferma un appuntamento di grande richiamo per il comparto allevatoriale sardo, non solo per la presenza delle due razze in concorso ma anche per l'esposizione di altre razze come la Blonde d'Aquitain, la Pezzata Rossa e per la prima volta la Aberdeen Angus. Nel padiglione esterno alla stalla saranno invece presenti le pecore nere di Arbus, l'asino dell'asinara, il suino di razza sarda e la pecora di razza sarda. Numeri e presenze in crescita per questo appuntamento che dà l'opportunità di mettere in mostra alcuni dei migliori allevamenti della Sardegna, promuovendo un comparto che investe informazione e innovazione grazie alla presenza di giovani allevatori che credono nella specificità e nella salvaguardia della biodiversità dei nostri territori.